Ciao, oggi facciamo un passo indietro nel tempo e vediamo la storia delle plastiche. Iniziamo proprio da prima dell'esistenza e della comprensione dell'idea della plastica. La parola plastica, l'oggetto, il materiale, deriva proprio dal suo principale caratteristica, proprietà, il discorso che è plastico, no? Materiale plastico. Naturalmente non c'è solo questa. In realtà l'uomo nel corso dei secoli ha sfruttato tantissimi tipi di materiali con questa proprietà. Pensiamo all'argilla, alla cera, ai metalli e al vetro. Abbiamo poi delle resine naturali come l'ambra, la gomma arabica e il caociu, che vengono sfruttate anche queste fin dall'antichità. Ma qui non siamo ancora nell'ambiente plastica ufficialmente considerato. Vediamo che anche nel cinema abbiamo qui il film laureato, un pezzettino, possiamo vederlo poi durante la lezione, che riprende proprio questo discorso della plastica. Una parola sola gli dice lì il signore. Plastica. L'avvenire è nella plastica, gli dice. E lui lo guarda sconcertato perché siamo negli anni 50-60. Ancora non si pensava che fosse così importante la plastica come al giorno d'oggi. Ed ecco quindi che abbiamo a che fare con il caociu, la gomma e Charles Goodyear ha scoperto questo metodo, la vulcanizzazione, che attraverso la giunta dello zolfo rende più elastica e resistente questa gomma e quindi non seccava e il suo principale impiego, naturalmente lo sappiamo tutti, sono i pneumatici. Andando avanti vediamo la prima lavorazione proprio che vuole tendere alla plastica, realizzata da Alexander Parkes, la parchesina. Lui ha fatto degli studi tra il 1845 e il 56, cercava un materiale meno fragile del vetro per fare le fotografie, perché a quel tempo la fotografia veniva fatta con un marchigegno grande e complesso e difficilmente trasportabile. Voleva qualcosa di più agile, ma non ci è riuscito, però ha trovato unendo il nitrato di cellulosa, che è fatta praticamente da fibra di cotone o legno, l'acido nitrico e solforico, oli vegetali e nafta di legno, ha trovato questo impasto modellabile in qualunque forma, che appunto ha chiamato parchesina. Ma non siamo ancora a livello sintetico del tutto. Andiamo avanti, passiamo a Yat, che ha realizzato la celluloide. Siamo nel 1870, si stava diffondendo tantissimo il gioco del biliardo. Le palle da biliardo allora venivano fatte in avorio, che sappiamo bene deriva dalle zanne, per esempio dagli elefanti, dai rinoceronti e quindi bisognava uccidere questi animali. Non per problema ambientale, ma economico, hanno cercato altre alternative a questo avorio. E lui ha realizzato la celluloide, solo che aveva un grosso problema, era altamente infiammabile. La celluloide è fatta da nitrocellulosa e canfora. Ecco, come palle da biliardo poi non ha avuto molto successo, però è il primo vero polimero. E lui sì, che ha avuto la fortuna che questo materiale poi è stato utilizzato al cinema e per la fotografia per realizzare proprio i nastri di celluloide per il cinema. E poi tantissimi altri oggetti, facevano pettini, qui ho messo delle penne, tantissimi oggetti. E poi per esempio il rivestimento della radio, quando è nata, proprio qualche anno dopo. Arriviamo a Backeland. Ecco qua, Leo Backeland ha invece realizzato la bacchelite. Siamo già nel secolo successivo, quindi nel 1907. Lui, anche lui, cercava un materiale da sostituire il rivestimento dei figli elettrici e, come tutti gli altri, in pratica o quasi ha trovato qualcos'altro. Ecco, questo è considerato il primo vero polimero sintetico. È fatto da formaldeide più fenolo, che è effettivamente un derivato del petrolio. Ed è qui la grandissima novità, perché prima di allora il petrolio era usato pochissimo. Si usava per lo più il carbone a livello energetico. Le macchine, gli automobili erano pochissime e di conseguenza è qui che è nato l'utilizzo appunto del petrolio. Con la bacchelite hanno realizzato tantissimi oggetti, per esempio gioielli, le pipe, eccetera, eccetera. Ecco che quindi nasce, proprio grazie a questa scoperta, il settore petrol chimico e le grandi imprese, che conosciamo anche al giorno d'oggi, del petrolio, come la DuPont, l'ExxonMobil, BASF e Total Petrol Chemicals. Arriviamo a Clatte, che ha scoperto il PVC, polivinil cloruro. Questo qui è appunto l'immagine di Fritz Clatte. Siamo nel 1912 e però questa scoperta subito subito non ha avuto grande successo. Si è sviluppata dopo, quando è scoppiata proprio la moda del vinile, quindi i dischi che tutti conosciamo. Purtroppo è tossico se riscaldato e quindi non può venire utilizzato nel settore alimentare, ma è molto meglio nell'edilizia, per esempio per fare i tubi, le grondaie o gli infissi. Arriviamo al Celofan di Brandenberger. Ecco, siamo all'anno successivo, 1913, il primo materiale plastico flessibile, trasparente e impermeabile. E ne va usato per confezionare tantissime cose. Ci sono delle pubblicità veramente inquietanti, questa è una forse delle meno, dove vediamo questi bambini impacchettati. Ed ecco il nylon. Wallace Carothers, negli stabilimenti della DuPont nel 1935, dal benzene estrasse un nuovo polimero. Era simile alla seta e c'era a quel tempo proprio il problema delle calze da donna che, essendo di seta, costavano troppo. La maggior parte delle persone non potevano permettersela. La seta comunque era una proteina, quindi un polimero naturale. Le calze, ecco, venivano utilizzate da allora in poi con il nylon. E successivamente hanno addirittura realizzato dei paracaduti per la Seconda Guerra Mondiale. Questo qui è l'immagine del polimero. Ecco qua un'immagine proprio della raccolta delle calze che venivano fatte proprio per realizzare i paracaduti militari. E qui una delle tanti manifeste da DuPont per pubblicizzare appunto le calze da donna. Siamo nel 1939 quando è stata fatta la prima. Qui potremo vedere poi durante la lezione la pubblicità del Moplen. Ma signora, guardi me, che si è fatto di Moplen per pubblicizzare proprio la nascita del polipropilene. Qui siamo in Italia. L'inventore è Giulio Natta. Nel 1954. E grazie a questa scoperta vinse il premio Nobel nel 1963 per la chimica. Qui abbiamo un piccolo video dell'Istituto Luce dove si vede appunto la scoperta e come è arrivato al Nobel Giulio Natta. Noi naturalmente andiamo avanti. E arriviamo al PET, polietilente reptalato, scoperto da questi due scienziati nel 1941, usato inizialmente come tessuto. Per esempio per fare il classico pile che mettiamo tutti in inverno. Ma nel 1973 negli stabilimenti della DuPont, Nathaniel Wyatt brevettò il PET per realizzare le classiche bottiglie. delle bibite gassate ma che poi si sono diffuse per qualunque tipo di bibita, compresa l'acqua, e in tutto il mondo sono diffusissime. Finiamo con una frase del 1974 di un altro premio Nobel per la chimica che disse relativamente alla plastica che è il materiale che la natura si è dimenticata di creare. Non sapevano ancora come si sarebbe diffusa.